Musica Musica amici sportivi buonasera un saluto da fabrizio agostini da gianfranco marceddu notte di coppa per la PR 2000 Aprilia che questa sera ospita il laurentino Fonte Ostienze il primo pallone è giocato proprio dagli ospiti poco sollecitati ora De Filippis colpo di tacco sulla linea salva Serracchiani fischio dell'arbitro infanti il destro ancora un salvataggio poi lungo palla fuori poi intercetto di Federico Federico prova a fare tutto da solo poi appoggia Serracchiani il destro per Marras contrato poi contropiede dei giudici occasione Idini dice no prova a ribaltare l'azione la PR con dei giudici fa tutto da solo dei giudici se ne va il destro ancora la respinta di Idini non tira subito e allora ruba palla Laurentino con Sarro Sarro la parata di Margari salva tutto Carioni per efficace il destro palla sul palo ancora efficace poi lascia ancora Fulco Fulco va via arriva il fallo di Marras parte Fulco palla in rete PR in vantaggio lascia Idini Idini lancia lungo poi arriva la rete la rete di Idini Campioni non arriva la palla perché c'è l'occasione per Serracchiani Serracchiani velo ma c'è pallone che arriva ad Argentini poi il destro di Argentini palla fuori Serracchiani poi si infila Marras Marras vantaggio del Laurentino Stienze il vantaggio di Marras di Gregorio per Di Rocco 1-2 Di Gregorio va via e Tris del Laurentino Fonteostienze sulla sfera Di Rocco e Marras prova il tiro e la palla si insacca Di Rocco arriva il fischio dell'arbitro palla Di Gregorio poi Santa Maria e arriva la rete la cinquina dei neroverdi prova direttamente in porta poi la traversa De Filippis ancora lungo prova il sinistro palla in rete accorcia le distanze lungo Fulco intercetto di Mannarino che può andare in porta Mannarino palla in rete 6-2 tiro libero affidato a De Giudici contro Idini il tiro e la palla in rete lungo prova ad andare via lungo per De Giudici il tiro e palla in rete arriva la quarta marcatura campioni campioni arriva sotto porta niente da fare e allora Di Rocco si distende il Laurentino Di Rocco termina la sfida 7-4 in favore del Laurentino Fonteostienze sulla PR 2000 Aprilia si chiude sta prima notte di Coppa da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marcedo un saluto a tutti voi Grazie 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 Grazie